nel video delle grandi occasioni sono sempre con me il mio mitico batman e il mio picco in cinese tra l'altro fatto ragazzi veramente veramente bene dietro ci sono i cipettini del mining di bitcoin degli asic davanti una b grandi cinesi grande bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video un video un po più allegro del solito perché finalmente il mercato ha dato un segnale importante per quello che riguarda l'analisi tecnica è anche un segnale importante per definire meglio quella che è invece l'analisi ciclica e soprattutto ha dato un po di respiro al mercato delle cripto valute che necessitava di questo rialzo necessitava anche un po di rifiatare sia da un punto di vista di prezzo che ossia da un punto di vista emotivo per tutti gli investitori e per chi crede in questo mercato perché crede nella bellezza anche nel mercato cripto valute ragazzi perché tutti noi che li stiamo usando già da diversi anni amiamo questo mercato non solo per una questione legata agli incrementi del trading dei guadagni eccetera ma soprattutto per l'usabilità perché sono assolutamente fantastiche per una serie di punti di vista oggi siamo nel video di aggiornamento per quello che riguarda l'analisi tecnica ci sono tantissime novità in più alla fine del video vi mostrerò un grafico ragazzi che finora non ho visto da nessuna parte e che ha dato un segnale importantissimo e in fase di definizione ma è un segnale importantissimo ragazzi e va assolutamente preso in considerazione in rete sento comunque in ogni caso una serie di informazioni sempre le stesse ragazzi questo rialzo è fake e questo rialzo è inutile questo adesso andremo qui e poi scendiamo di nuovo qui poi facciamo il giro con la bici saliamo le montagne scendiamo le montagne ma insomma fino all'altro giorno il mercato faceva trend negativi e tutti dicevano che adesso rimbalzava adesso rimbalza ora fa la rottura delle resistenze che stiamo indicando da due mesi e non saliamo sul carro dei vincitori non andiamo a dire attenzione questi breakout sono importanti l'abbiamo detto per due mesi aria 4.200 4.400 4.600 abbiamo detto per due mesi che erano segnali forti al rialzo adesso questo tipo di avvenimento è accaduto e ovviamente non si crede nel rialzo è ancora si continua a ragionare così per quanto riguarda i professionisti del trading non va bene ragazzi si segue sempre il trend ok non fate arrabbiare ve lo dico in napoletano non mi fate arrabbiare ok bene prima di andare sui grafici a vedere tutte queste grandi novità invece vi chiedo una cosa e doverate un po iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un grande pollice in su per questi tipi di video ma oggi vi chiedo anche di scrivermi nei commenti il vostro punto di vista e la vostra analisi cosa ne pensate e cosa vi aspettate dai mercati delle criptovalute nei prossimi giorni qual è la vostra opinione scrivetemela nei commenti perché potremo dibattere molti di voi l'hanno già fatto nel video di ieri ma continuate a farlo perché sarà fantastico vedere punti di vista differenti andiamo sui grafici mi metto gli occhiali come sempre ragazzi guardate che candelone candelano e confermato in chiusura tra l'altro daily ed è fondamentale per quanto riguarda bitcoin allora intanto ragazzi la prima cosa che vi faccio vedere il rsi che ci indica un iper comprato stratosferico che non fa altro che confermare assolutamente questa fase di forza quindi ci dice che questa fase di ve lo metto su grande schermo ci dice che questa fase rialzista del mercato è forte molto molto forte perché il rsi sta in zona di iper comprato iper comprato ragazzi non è da utilizzare come molti fanno come area di vendita assolutamente è un indicatore di forza o debolezza del mercato lo dico sempre nei miei corsi di formazione e nei vari webinar che tengo per la trading on academy andiamo quindi a eliminarlo quello rsa che insomma l'informazione che doveva darci ce l'ha già data avevamo davanti a noi queste possibilità cicliche ragazzi e queste possibilità cicliche indicavano questo ciclo di dieci giorni o in fase di nuovo minimo se non c'era il break dei 4 e 4 oppure il mercato ci ha stupito facendo il break del 44 e indicando un altro evento è molto importante allora il primo evento fondamentale è che sul minimo del 25 di marzo questo minimo è stato concluso il ciclo precedente mensile questo qui ragazzi ok è durato 21 barre quindi invece di andare in chiusura verso fine marzo anticipato e probabilmente adesso vedremo una conformazione ternaria perché quando avviene questo un punto di vista ciclico si può vedere una conformazione ternare quindi bisognerà stare attenti da qui ai prossimi giorni ma comunque attenzione perché questo tipo di rialzo e questa rottura del massimo precedente di questo ciclo sancisce in ogni caso un ciclo assolutamente rialzista questo è quello che mi aspetto in questo momento mi aspetto che questo ciclo sia interamente composto da tre sottocicli quindi un ciclo ternario e che vada a chiudere quindi a fare questa sua fase verso il venti di aprile in sostanza significa che la spinta rialzista è ancora attuale quindi significa che questa spinta rialzista può essere ancora vista positivamente quindi ci può essere ancora rialzo ragazzi tranquillamente perché il tempo c'è ci sono altri venti giorni di aprile il mercato può continuare tranquillamente a salire per altri giorni con grande tranquillità e poi magari andare a farci il la sua close non so una cosa del genere da un punto di vista di analisi ciclica quindi difficilmente si sforerà da questo tipo di view è un ciclo ternario dovremmo poi assistere alla nuova ripartenza per capire se effettivamente in questo punto è stato proprio chiuso un ciclo molto più grande la vero difficile sinceramente secondo me il ciclo più grande verrà chiuso a metà fine aprile e a questo punto sarà comunque rialzista ragazzi quindi potrebbe anche chiuderlo in barra di congestione non è detto che vado a fare i minimi potrebbe scendere tranquillamente insomma però c'è tempo perché questo rialzo possa ancora continuare questo è quello che sta indicando la fase ciclica quindi qualche altro giorno potrebbe tranquillamente continuare a farlo a livello di rialzo passiamo dal punto di vista di analisi tecnica il mercato davanti a sé non ha resistenze rilevanti non ha resistenze rilevanti questo è un fattore positivo e anche il motivo perché passate queste due resistenze che mi ha indicato già da mesi il mercato ha fatto questo super up e quindi perché non c'è non ci sono resistenze ragazzi non c'è niente c'è solo questa media che vedete sta attraendo i prezzi che ma così ma vede a 200 periodi importante ma il mercato l'ha rotta ieri l'ha confermata la rottura in close dei di bisognerà vedere a livello settimanale ma comunque è un'indicazione già abbastanza importante primo livello assolutamente rilevante risulta essere i 5.500 intanto vabbè abbiamo il livello l'ultimo massimo qui che insomma è bene indicare ragazzi anche se non sappiamo se effettivamente sarà un livello di vera resistenza perché il mercato l'ha fatto solo ieri quindi non abbiamo idea se questa cosa possa perdurare invece un livello di confronto insomma del mercato dovrebbe essere quello in questo punto quindi esattamente tra 455 e 58 quindi questa fase questa potrebbe essere tranquillamente un'aria di arrivo di spunto rialzista la vera resistenza ovviamente ragazzi è qui attorno ai 6.000 dollari è la vera resistenza del mercato cioè il precedente minimo che aveva tenuto i prezzi per mesi qua sotto vedete c'è da dire la verità vedete questo 58 resta comunque una fascia di importante resistenza perché era il minimo di giugno 2018 però in realtà è come sapete dovete sempre ragionare in termini di fascia di prezzo ragazzi quindi il mercato con le spike potrebbe tranquillamente sporgersi verso anche i 6.000 dollari questo ovviamente se continuerà questa fase rialzista quando non lo sappiamo come sempre accade ma il mercato assolutamente è rialzista da un punto di vista ciclico possiamo avere qualche altro giorno di spunta quindi nulla vieta che il mercato possa andare in quest'area assolutamente giusto così attenzione perché il mantenimento di tante giornate al di sopra della media 200 periodi spingerà la media 50 a fare il famoso golden cross sulla media 200 sancendo ovviamente il ritorno del trend rialzista nel medio periodo per quanto riguarda la cripto più amata di tutti bitcoin a mi ero scordato di dirvi una cosa ragazzi perché alcuni di voi mi hanno sempre fatto le battute quando avrei detto che il mercato era in trend rialzista il mercato è in trend rialzista passiamo ad ethereum ragazzi ethereum dipinto al posto di bitcoin ancora di più di bitcoin ethereum assolutamente dipinto allora dove ha chiuso questo ciclo ethereum difficile da dire o qui o qui ovviamente sul mio del 25 quindi siccome il l'ha chiuso qui noi facciamolo chiudere in questo punto per avere una simmetria con gli altri mercati ragionando su cicli ampi abbiamo questo tipo di movimento possibile guardate qui che ancora una volta ci dà un super ciclo ternario in chiusura verso la fine del mese di maggio io non vorrei diciamo fare previsioni molto lunghe perché ragazzi ovviamente si incorre sempre in grandi errori sapete che l'analisi ciclica una grande variabilità quindi ci deve indicare solo delle fasi e ovviamente la fase intermedia di questo maxi ciclo di ethereum dovrebbe essere in chiusura sempre verso il 20 di aprile come abbiamo visto su bitcoin ma quello lo vedremo con calma cosa sta succedendo da un punto di vista di analisi ciclica esattamente questo che è partito nuovo ciclo c'è ancora tempo perché la sua metà dovrà chiudersi verso il 20 aprile non mi ripeto perché la stessa cosa che ho detto per bitcoin ma volevo farvi vedere invece quello che sta succedendo di analisi tecnica su eterium e terium se soffre la resistenza a 170 oggi sta tentando di romperla non sta chiudendo sopra attenzione perché ha una doppia resistenza cioè il trend line ascendente di questo canale laterale rialzista e questa resistenza statica assolutamente molto importante quindi eterium deve indicare ragazzi deve indicare la rottura di 170 perché è importantissimo per il mercato complessivamente non solo per questa cripto ma indicherebbe anche per una per le alt coin nuova spinta nuova benzina nuova possibilità di rialzo quindi assolutamente sopra 170 in chiusura daily e sarebbe anche interessante vedere la rottura di questa linea blu azzurrina cioè la rottura del canale rialzista in modo da avere più pendenza ma lo vedremo successivamente un'eventuale resistenza al di sopra di quella a 170 la trovate qui nei 190 e quindi questa è la nostra aria importante che dovremmo tenere monitorata quindi quest'aria qui ma importantissimo ragazzi su eterium il superamento di 170 bene siamo alla fine del video andiamo a vedere quello che vi avevo promesso precedentemente e cioè un'analisi sul grafico che vi ho fatto vedere nel mio video sulle previsioni e i target per il 2022 chi non l'avesse visto sopra la mia testa trovate la scheda per andare direttamente al video video che ha avuto tantissime più ragazzi quindi io non posso dirvi grazie assolutamente che se abbiamo superato forse le 4.500 più in tantissimi questo è il grafico che vi ho mostrato in quel video andiamo a vedere cosa è successo questa era la mia previsione fantasma di andamento del mercato fino al 2022 ovviamente un gioco ragazzi ma io la lascerò qui perché se vi ricordate nei mesi scorsi quando avevamo fatto la previsione ribassista di bitcoin sono azzeccato video per gioco la lascia va bene allora guardate qui e nessuno ne parla attenzione ragazzi attenzione attenzione trend line sul grafico settimanale importantissima perché sul grafico settimanale questa candela di questa settimana sta tentando il breakout della trend line ribassista che si significa in sostanza rompere un trend al ribasso da un punto di vista ipotetico perché poi in realtà la vera inversione si avrebbe con bitcoin al di sopra di questo livello di massimo o di questo livello di massa quindi sopra i 7 mila dollari da un punto di vista settimanale però la rottura della trend line è un'anticipazione di questo discorso quindi da un punto di vista settimanale una candela di questa entità che va a rompere la trend line ribassista di medio periodo quella che avevamo visto dai massimi di dicembre 2017 è assolutamente importante è molto significativa perché parliamo del grafico weekly del grafico settimanale quindi cosa deve fare deve chiuderci intanto oggi è mercoledì ragazzi quindi questa chiude domenica sera c'è tempo attenzione ancora ci sono tanti giochi da fare però questa candela che sta facendo un 21 per cento di rialzo prezzi sono di beat stamp qui non di non di beat phoenix se continuerà la sua fase e resterà verde così avrà rotto la trend line avrà rotto i massimi precedenti e avrà sancito l'inizio di un mini trend rialzista che poi vedremo dove andrà primo livello come vedete di resistenza anche a livello settimanale sia attorno ai 5.700 vediamo di disegnare anche qui un'aria di resistenza che potremmo avere che è questa qui esattamente ragazzi questo la spingiamo qui perché queste sono settimane e non serve quindi questa potrebbe essere un'aria di resistenza bene abbiamo visto tutto per quanto riguarda i grafici di oggi abbiamo visto cosa può succedere anche in questa settimana che la fase ciclica indica una fase di debolezza che però ha ancora tempo per verificarsi perché ci vuole fine mese di aprile attenzione ragazzi che io parlo di debolezza ciclica non vuol dire che domani i mercati non possono perdere il 3 per cento questo ovviamente si chiama oscillazione io parlo di fase di debolezza ciclica quindi un mini trend piccolino piccolino o anche grande purtroppo al ribasso ok e me lo attendo per metà fine mese di aprile mentre quello che abbiamo visto sui grafici è un importante breakout di livelli di resistenza assolutamente rilevanti va bene ragazzi io vi ringrazio noi ci vediamo il weekend con un altro video aggiornamento speriamo che i mercati continuino a darci queste soddisfazioni iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto lasciatemi un mi piace e condividete i miei video dovunque e dove lo trovate assolutamente utile ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti